Musica E ben ritrovati carissimi amici telespettatori affezionati di 6 in salute nuovo appuntamento dopo aver parlato ancora una volta di nutrizione sotto altri aspetti e quindi avendo dato anche delle buone indicazioni che sicuramente il nostro Roberto Bonin ha già seguito per tutta la settimana Assolutamente, rigorosamente Adesso ci introduci l'argomento di questa serata L'argomento di questa serata è molto interessante e soprattutto molto importante perché questa sera parleremo di pronto soccorso Ora con i nostri specialisti, cardiologi, neurologi, ne abbiamo già parlato nelle scorse volte ma questa sera abbiamo proprio un medico esperto in chirurgia d'urgenza che ci illustrerà proprio come funzionano i nostri pronto soccorso soprattutto come utilizzarli nel miglior modo possibile e tra l'altro ci darà anche l'esempio di un'iniziativa nata per ora solo nella città di Milano che è alternativa al pronto soccorso però molto efficace Non svegliamo troppo perché snoccioleremo tutto durante questa puntata ma come sempre video iniziale C'è un paziente d'arresto C'è un paziente d'arresto L'importante è non perdere mai tempo Io adesso do il benvenuto al nostro ospite che è il dottor Carlo Zampori specialista in chirurgia d'urgenza pronto soccorso presso l'ospedale San Carlo di Milano ma anche direttore sanitario di Codice Verde Buonasera Buonasera, grazie di avermi invitato Abbiamo visto questo video molto ad impatto infatti questa sera parleremo proprio di medicina e chirurgia d'urgenza e quindi anche un po' del pronto soccorso Abbiamo quattro codici che sono molto importanti bianco, verde, giallo e rosso Vogliamo fare un po' una distinzione Sì, innanzitutto direi che questo filmato introduttivo rende molto bene l'idea di quello che dovrebbe essere un pronto soccorso e come dovrebbe essere utilizzato Il pronto soccorso è una struttura magnifica che è nata per le urgenze e per le emergenze quindi da qui nasce proprio la necessità di usarlo al meglio soprattutto quando serve Abbiamo la possibilità di raggiungere il pronto soccorso autonomamente o attraverso in caso di emergenza il 112 almeno per la Lombardia il numero unico di soccorso è il 112 Quindi l'ambulanza arriva in pronto soccorso c'è del personale preparato di triage che vuol dire che sarà capace di selezionare le patologie più o meno gravi per far sì che non si perda tempo nel portare le cure e assistere il paziente A questo punto come vengono selezionati i malati? Dando loro un colore Il colore rosso è quello della criticità con pericolo di vita Il codice giallo è una criticità meno grave che però potrebbe evolvere in qualcosa di più grave Poi si conferisce il codice verde quelle patologie che non sono urgenti non dovrebbero mai evolvere in qualcosa di più grave e il codice bianco con le patologie veramente un pochettino minime di persone che possono tranquillamente aspettare le cure anche per giorni e giorni Questo è un po' il problema del nostro pronto soccorso Ecco ma si è molto evoluto poi negli anni il nostro pronto soccorso dagli ultimi vent'anni poi è stata proprio introdotta il triage adesso abbiamo già visto un po' com'è ma qual è l'altra fila di una persona che poi arriva in conto soccorso? Infatti sapere esattamente un po' come utilizzare una struttura ricordando che il pronto soccorso è veramente anche il salvavita come abbiamo visto nel filmato si arriva in condizioni veramente precarie, critiche e c'è del personale quasi sempre preparatissimo idoneo a mettere in atto tutte le loro capacità professionale le loro tecniche di rianimazione e questo va salvaguardato e va detto che soprattutto anche noi in Italia siamo veramente molto molto esperti addirittura nei grossi ospedali come nel mio ci sono persone proprio già specialiste in chirurgia d'urgenza, in pronto soccorso che però sono ulteriormente specializzate per quelli che sono anche i grandi traumi i politraumi e le maxi emergenze faccio un esempio per tutto un incendio in un palazzo quindi bisogna avere le capacità anche per organizzare all'interno del pronto soccorso gli spazi, le barelle, il personale dando una priorità però il cittadino che si rivolge al pronto soccorso per un malessere, per un dolore, per un accidente ha corso sul lavoro o in casa si presenta al pronto soccorso anche autonomamente o perché ha chiamato l'ambulanza quindi ha fatto il 112 e viene visitato da questo personale infermieristico e a queste persone si attribuisce il codice quindi si afferisce in questo modo poi in base alla gravità il paziente aspetterà il momento per essere visitato è chiaro che la priorità non ce l'ha chi arriva prima ma bensì la persona più grave è chiaro anche che se c'è una grande urgenza in atto le persone attenderanno ancora più del dovuto quindi è un meccanismo, una struttura che non ti permette di prevedere i tempi di attesa certo perché tante volte possono esserci anche tre presenze gravi ma assolutamente però siamo tutti collegati col 118, 112 adesso per la Lombardia e quando siamo in super affollamento di emergenze urgenze con sale operatorie occupate noi dobbiamo stoppare in modo tale che il paziente non perda tempo rivolgendosi a noi ma venga dirottato direttamente in un altro ospedale però questi sono un po' i casi che ci tengono un pochettino più occupati però non da meno tutti i casi di patologie minori quindi quelli che sono i codici verdi i codici bianchi devo dire rappresentano un grosso problema per il cittadino quindi l'utente che in realtà sta male anche se non è una sofferenza che gli può portare o compromettere la vita però per lui in quel momento è un'esigenza avere una risposta queste patologie rappresentano quasi il 75% degli accessi al pronto soccorso quindi ci sono dei dati abbastanza rilevanti abbiamo dalla società di emergenza urgenza dei dati che in Italia più o meno 30 milioni di persone si presentano nei nostri pronto soccorso vuol dire una persona che almeno una volta all'anno una su due si reca in pronto soccorso quindi immaginatevi come si intasano queste strutture che potrebbero funzionare ancora molto molto meglio se fossero selezionati i casi già prima di entrare in ospedale certo ma un'altra mia domanda è anche questa una volta c'è ancora il medico di base però adesso più spesso il medico di base delega il pronto soccorso sì le risposte sono tante uno il medico di base ha degli orari magari il suo paziente in quel momento sta male non lo trova dice la risposta me la dà il pronto soccorso tante volte mi dicono sì va bene il mio medico è bravissimo però si occupa di medicina io qua mi sono tagliato un dito ho bisogno di pronto soccorso non mi fa una medicazione e poi perché siamo sempre stati orientati a andare in pronto soccorso perché sappiamo che in qualche modo da questa struttura una risposta l'avremo che sia una cura, un esame e siamo disposti ad aspettare tante ore mediamente un codice bianco un codice verde aspettano dalle 4 alle 5 ore io parlo mediamente poi ci sono dei giorni drammatici come può capitare anche che qualche volta uno sia così fortunato ad entrare e essere visto in breve tempo certo una domanda curiosità che ho sull'ambulanza quando esce c'è un medico a bordo? dunque no l'ambulanza ha un equipaggio di soccorritore che si rendono conto della gravità o dell'incidente o delle condizioni del malato e possono chiamare delle macchine che sono India o Alfa che hanno a bordo un medico specializzato e possono chiamare il centro con la rianimazione e tutto scatta un'organizzazione che è fantastica meravigliosa siamo veramente almeno nella città di Milano ma in tutta Italia in grado veramente in breve tempo di portare un grande aiuto a una persona bisognosa su questo secondo me noi abbiamo l'eccellenza scusami quando arriva il paziente in ospedale spesso sono già organizzati sono già organizzati magari il malato ci arriva già con dei primi presidi già intubato già massaggiato già con una respirazione artificiale ci viene consegnato con una precisazione una precisione incredibile sulle condizioni generali su come è stato trovato così ma qua stiamo parlando un po' delle maxi emergenze delle grandi urgenze ecco forse bisogna anche pensare a tutte quelle persone che sono il 75% degli accessi in pronto soccorso che hanno dei mali minori che può essere una colica renale che può essere invalidanti fastidiosi e così però potrebbero essere curate dal loro medico o comunque dalla guardia medica o qualcosa che sul territorio dovrebbe esistere certo parliamo ora del pronto intervento come abbiamo detto ora è il 112 è cambiato tanto anche questo questo è cambiato per la regione Lombardia perché per qualunque cosa si fa riferimento a un numero unico che è il 112 quindi non è soltanto per un problema di salute ma per qualunque cosa scatta un'urgenza anche che vede le forze dell'ordine e quant'altro una volta una volta era il numero dei carabinieri si doveva fare numeri diversi adesso è stato unificato e quindi ha reso già smaltito ha reso già più veloce il soccorso si perché una volta era il 118 si per quanto riguardava la salute così si perfetto ecco vogliamo adentrarci invece un attimo prima dicevamo quando rivolgersi a pronto soccorso sarebbe bello spessare invece quando non bisogna andare a pronto soccorso questa è una bella domanda nel senso che l'utilizzo di una struttura così efficiente a volte viene messo un pochettino a diciamo a disagio dall'afflusso di persone che non dovrebbero proprio entrare in pronto soccorso tante volte come ho detto un po' prima le persone si recano in pronto soccorso perché dicono ho bisogno una ricetta ho bisogno una visita voglio fare comunque questo esame perché non mi sento tranquillo il mio medico me l'ha prescritto ma i tempi di attesa per farlo ambulatoriamente da esterno sono così lunghi che quasi quasi sto 5-6 ore in sala d'attesa ma prima o poi una risposta l'avrò quello che dico è un po' un dato di fatto si vede anche dai lavori che possono essere rintracciabilissimamente trovati su internet ovunque e sono veramente tante queste persone io capisco le loro esigenze però metto una volta a dura prova i rapporti anche col personale che chiaramente è già un personale abbastanza diciamo così tanto è preparato tanto è stressato perché queste situazioni anche umanamente ti colpiscono quindi come abbiamo visto nel filmato hai appena massaggiato una persona hai cercato di riportarla in vita non puoi un attimino dopo far finta di niente occuparti di quello che ha mal di gola ecco bisognerebbe che tutti i cittadini conoscessero un pochettino il nostro lavoro e avessero anche quel poco di rispetto in più per migliorare anche i rapporti interpersonali tra i dipendenti e i loro utenti anche questo è un po' carente noi assistiamo nel pronto soccorso tante volte a degli atti veramente quasi di violenza che sfociano con la violenza del tipo magari dove sono arrivato prima perché quello è passato avanti e che non si rendono conto che noi selezioniamo in base alla gravità e non all'orario d'arrivo non è come quando si va a prendere il pane che in quel caso sono cose un po' differenti e si logorano un pochettino i rapporti anche noi medici abbiamo magari le nostre colpe perché siamo un po' pochi siamo un po' stressati abbiamo appena finito cose magari importantissime ci vediamo la feritina sul dito che potrebbe essere medicato in una farmacia da un medico di famiglia lamentarsi perché ha aspettato e non ha capito quello che abbiamo vissuto noi con la persona che abbiamo assistito poco prima quindi sono delle dinamiche tali per cui ecco perché dicevo all'inizio che il pronto soccorso è una struttura nata per le urgenze e le emergenze purtroppo però dobbiamo far fronte anche a tutti gli altri casi perché è corretto che comunque un cittadino che non sta bene debba avere delle sue cure in tempi abbastanza rapidi assolutamente sì andiamo con un po' di pubblicità e ritorniamo subito dopo per continuare il discorso rieccoci nuovamente insieme sei in salute stiamo parlando di pronto soccorso però adesso vorrei chiedere al nostro dottore perché lei si occupa di chirurgia quindi quali casi si trova più spesso a trattare nella sua pratica quotidiana dunque tutti gli specialisti che si occupano di chirurgia di chirurgia d'urgenza negli ospedali vengono impiegati per tutto quello che diventa urgente quindi il paziente che arriva con un fortissimo dolore addominale che poi in realtà si scopre essere dovuto a un addome acuto quindi una patologia che va affrontata chirurgicamente subito come al politrauma quindi sono persone abbastanza preparate e che quotidianamente sanno un pochettino cosa fare come non perdere tempo a mettere in atto degli esami la valutazione del malato dando sempre una certa importanza a quello che è l'esame obiettivo ancora oggi pur avendo l'attacca a disposizione avendo qualunque interventista radiologo a disposizione però è molto importante ancora avere un piccolo colloquio se si riesce con il paziente in base alle condizioni di salute o comunque i familiari che ti riportano un po' di storia di questo paziente entrare un po' nella sua vita e cercare di capire se ha già sofferto in passato o cosa non è e poi la valutazione affidandoci a quei segnali quei segni clinici che fanno parte della nostra arte che è la semiotica quindi fare delle manovre che rapidamente ci dicono se una persona ha un problema polmonare perché non abbiamo più una trasmissione del monore vesicolare così come se un addome non è più trattabile ci orientiamo già verso una patologia che ha necessità di essere definita in tempi molto brevi poi è chiaro che se arrivano pazienti emorragici forti incidenti stradali o anche sul lavoro dobbiamo provvedere immediatamente a volte anche saltando delle barriere diagnostiche quindi se diventano interventi salvavita non abbiamo neanche il tempo di portare il nostro malato in tac ma dobbiamo subito mettere in atto quelle che sono quindi dal punto soccorso alla sala operatoria la sala operatoria tante volte può capitare questo ecco perché dico è molto bello è affascinante è un lavoro meraviglioso che almeno tutti i chirurghi vorrebbero fare bisogna essere preparati e in Italia ci sono tantissime persone tantissime figure nei nostri ospedali preparatissime per adempiere a questo ruolo anche perché è un qualche cosa che ti dà una sensazione che altri impieghi non ti danno quindi magari siamo tranquillamente a averci un caffè e un attimo dopo siamo in sala operatoria quindi bisogna essere un pochettino allenati a questo benvengano le persone come voi devi amarlo tanto questo lavoro perché non è che lo facciamo solo di giorno ma lavoriamo di notte e festivi e non è da tutti però lo scegliamo noi ci piace c'è entusiasma ci stanca tanto però a qualche soddisfazione ce la dà il fatto di salvare una vita umana se riusciamo a salvarla devo dire che torniamo a casa con un valore aggiunto indescrivibile quindi questo è molto bello ed è quello che ci porta a fare i nostri turni notturni certo tante volte si tende a ringraziare Dio che è andato tutto bene però poi si deve ringraziare il chirurgo la lunga mano è insomma perché comunque arriviamo un pochettino anche noi sulla terra a fare qualche cosina assolutamente poi se poi non ci riusciamo ci affidiamo a lui beh qualcosa fa anche lui però giustamente il merito è loro assolutamente io voglio fare due domande curiosità che ho io una la cronaca purtroppo la cronaca recente è anche purtroppo ricca di aggressioni ai medici soprattutto in pronto soccorso forse perché se noi siamo abituati magari a vedere i grandi film americani adesso Yar insomma lo fa un nome su tutto del medico che si presenta che è in Italia purtroppo per fortuna non lo so è un po' diversa la cosa e spesso poi si capitano nel insomma nell'attesa troppo come dicevamo prima stressante e tutto poi sfociano in vere e proprie aggressioni sì abbiamo la fortuna che spesso c'è una grande coesione tra noi il personale infermieristico e tutti gli altri quindi abbiamo una piccola barriera difensiva però sono abbastanza frequenti gli episodi di aggressione a carico di medici di guardia questo non solo a Milano parlo sempre in tutta Italia non bisogna sottovalutare che comunque è un lavoro anche abbastanza pericoloso per questo perché arrivano a noi varie persone che possono anche essere vittime di incidenti stradali ma anche di sparatori di aggressioni di percosse di persone anche violente che possono manifestare la loro violenza il loro carattere aggressivo anche nei confronti del personale che è lì solo per curarlo però forse la cosa più importante è quando vedi che la persona logorata dai tempi di attesa perde completamente la pazienza e comincia te la trovi già nell'ambulatorio mentre stai visitando ormai ha perso qualunque freno in inibitorio entra mentre tu hai già un altro paziente e dice ma insomma voglio io e lì chiaramente le risposte tante volte forse anche da parte nostra non sono le più diplomatiche però insomma possiamo essere umani anche noi bisogna comprendere che vedersi aggredire da una persona mentre stai lavorando magari dopo ore turni anche di 8-12 ore diventa un pochettino fastidioso questo modo di rovinare un rapporto che dovrebbe essere stupendo medico paziente non è legato solo però alla maleducazione delle persone è legato al fatto che siamo stressati da un grande numero di prestazioni e quando vi dico i numeri sono numeri importantissimi nel nostro ospedale si viaggia sui 70.000 codici verdi sui 7.000 codici bianchi e poi ci sono tutti i codici gialli le persone che rimangono in spazi tante volte ristretti perché non sempre sappiamo collocare o dimettere i pazienti quindi il problema importante di queste strutture a volte è anche proprio logistico architettonico non avere le stanze per tutti non avere le barelle per tutti non riuscire a diciamo dare una collocazione a ogni paziente quindi diventa un pochettino una situazione che toglie quel bel rapporto che dovrebbe esserci verso un uomo che in quel momento si è recato in ospedale vuole essere curato e si aspetta anche un piccola carineria e un certo trattamento questo un po' secondo me è un punto un buco nero dei nostri pronto soccorsi perché non riusciamo ad ottemperare tutto perché mancano i posti letto e manca il personale per rispondere le dico anche una cosa siamo soggetti a tantissime denunce noi pensiamo di aver fatto al meglio le nostre prestazioni poi c'è sempre quella persona che per rivalsa o perché è aspettato così viene consigliato ma tu denuncialo perché vedi che i punti non vanno bene perché è aspettato perché la prestazione poteva essere migliorata e quindi anche noi siamo un po' sulle difensive certo e beh per forza anche perché poi alla fine vi porta a questo tutto quello che accade sicuramente l'allungamento dei tempi d'attesa è legato anche a tanti esami che forse qualche volta potessimo considerarli inutili però sono una grande tutela per il paziente che comunque fa un esame in più che permette di consolidare la nostra diagnosi e noi siamo tutto sommato un pochettino più protetti perché abbiamo dimostrato in quel momento quali erano veramente le condizioni di salute del malato però è chiaro che più esami fai oltre il costo c'è anche il costo tempo si allungano le attese bisognerà magari riuscire anche a far capire alle persone quando andare realmente al pronto soccorso perché come ha detto prima sono sovraffollati e tante volte arrivano per cose banali sì questo sì anche se per loro sono molto importanti però ci arrivano ai tre di notte quelli che hanno una scheggia di legno nel dito da tre giorni però tu non puoi non visitarli aspetteranno ma però li devi vedere le assicuro che magari dopo essere usciti da una sala operatoria vedere può essere chiaramente le tre di notte per una scheggia in un dito è un po' fastidioso secondo me questo è un po' un malcostume anche nostro e quindi è una questione che non tra parentesi c'è anche il problema in un posto come pronto soccorso che è abbastanza forte voglio dire perché hai contatto con tante situazioni anche proteggere te stesso per la famosa sindrome del burnout quella di interiorizzare i drammi degli altri assolutamente oltre a quello c'è da dire che veniamo a contatto con delle storie violentissime non solo aggressioni così ma situazioni familiari veramente al limite della miseria della fame che veramente ti lasciano ti impoveriscono non sai come fare perché scopri che magari non sempre abbiamo un meccanismo che possa poi aiutarli una volta finita la nostra visita quindi li vediamo stazionare sulle sedi perché non hanno una casa perché d'inverno non se la sentono di dormire su una panchina siamo un po' diciamo a contatto con tutte le tipologie di persone ecco perché dico forse una piccola preghiera magari non rivolgetevi al pronto soccorso se non è veramente utile e cerchiamo di assistere le persone che magari hanno uno piccolo malanno però magari non hanno una casa non hanno niente e devono stare da noi tutta la notte e anche perché molti magari arrivano proprio anche per solitudine beh questi sono problemi enormi però le nostre strutture hanno dei servizi con lo psicologo con l'assistente sociale noi siamo veramente ben organizzati magari siamo pochi ecco perché sembra che non funzioni tutto bene però abbiamo un'eccellenza io reputo che sono persone che poi lo fanno quasi tutte col cuore oltre che con i loro titoli questo se fate un'esperienza in ospedale vi rendete conto dal barrigliere così lo fa sempre cercando di avere un colloquio con il trasportato l'infermiera magari ha fatto già due notti però riesce a entrare in sintonia sempre che il paziente però si rivolga a noi con una piccola dose di educazione ci vorrebbe quell'empatia ma quella si crea si può creare però dobbiamo avere anche il tempo per relazionarci con i pazienti e tante volte le ore e ore di atteso queste schermate in pronto soccorso di gente 19 casi da vedere tutti subito così ti porta un attimo a mettere in secondo piano quello che è il rapporto magari che potrebbe aiutare a volte più di una flevo un po' di empatia ci vorrebbe ci vuole sì adesso andiamo con un po' di pubblicità creiamola noi con l'empatia e ritorniamo subito che carina benissimo rientriamo in studio stiamo parlando di pronto soccorso abbiamo visto che uno dei più grossi problemi è proprio la sovraffollamento quindi le attese estenuanti ed è da qui che nasce l'idea di codice verde sì è nata proprio per la passione per l'urgenza e per il pronto soccorso che tanti anni fa a Milano ho ideato diciamo concepito l'idea di creare un piccolo ambulatorio che potesse funzionare da pronto soccorso in maniera privata come alternativa al pronto soccorso pubblico chiaramente limitando l'attività ai codici minori quindi codice bianco e codice verde e un po' spalleggiato dall'incontro con una bucconiana che mi ha aiutato a concepire un'organizzazione creare una società è nato codice verde è il nome di questo pronto soccorso privato che è solo diurno codice verde è molto semplice molto riporta subito molto immediato immediato anche per capire che uno può rivolgersi a noi se non è in pericolo di vita e tutto ma per meglio instradare il paziente abbiamo un triage telefonico dunque quello che succede al paziente quando si recchi in ospedale è di essere più o meno valutato da un infermiere e questo assegnerà al paziente un codice colore da noi tutto questo viene fatto telefonicamente questo uno per non far arrivare inutilmente un paziente perché se non siamo all'altezza è inutile fargli perdere tempo e illuderlo e la cosa più importante è che cerchiamo di assegnare direttamente lo specialista quindi se si parla di un trauma il paziente verrà visto direttamente dall'ortopedico se dovesse essere una colica addominale posso essere io qualcuno della mia equip se si tratti di un problema all'orecchio verrà visto dall'ottorino e se uno di colpo una laccrivazione un corpo esterno un problema oculistico verrà visto dagli oculisti quindi abbiamo creato una organizzazione perché non è uno studio una organizzazione che permette di dare una risposta immediata e pronta al paziente che si rivolge a noi e questo per essere attivo sulla città di Milano noi abbiamo puntato tutto su Milano perché Milano diciamo è un po' sempre stata l'avanguardia e perché siamo di Milano abbiamo un'esperienza su Milano però avremmo voluto che diventasse un progetto pilota da poter replicare in altre città abbiamo qualche vantaggio il triage da noi viene fatto in cinque lingue la persona che parla è intanto una voce non registrata ma è una voce che mette subito proprio agio la persona che si rivolge a noi e tante volte sono stranieri stranieri di passaggio che non hanno punti di riferimento ma nel loro paese d'origine sono abituati a rivolgersi privatamente al pronto soccorso e non aspettare ore e ore quindi sono i primi che valutano la nostra esistenza come qualcosa di utile abbiamo tantissimi giovani perché a Milano ci sono le più grosse università abbiamo la Boccona abbiamo il Naba abbiamo lo IED abbiamo la Marangoni quindi sono frequentate da straniere abbiamo orientali abbiamo sudamericani o anche stessi italiani che non sono residenti a Milano quindi non hanno il loro medico di famiglia non sanno a chi rivolgersi diventiamo per loro un piccolo porto un riferimento molto importante ecco abbiamo elencato quattro casi ce ne sono altri a cui è indicato questo codice ma è indicato direi a tutte quelle persone che hanno bisogno non so hanno banalmente forse un attacco di appendiciti devono essere valutati approfonditi e in questo caso noi proponiamo anche un ricovero privato nel caso avessero la possibilità con assicurazione che ormai più o meno tutti in età lavorativa hanno in strutture convenzionati con queste assicurazioni possiamo quindi procedere anche a una cura chirurgica così come può essere una chirurgia ortopedica come invece tutta la piccola chirurgia viene fatta direttamente nella sede di codice verde e ricordiamoci che tante volte per un piccolo taglio a un dito uno aspetta 6 ore col suo dito in mano in pronto soccorso da noi immediatamente viene visto da uno specialista chirurgo che credo sappia fare bene il suo lavoro anche per sono tutti specialisti in tutte le discipline abbastanza collaudati ecco quindi vengono escluse ovviamente le grosse emergenze le patologie maggiore vengono già escluse dal fatto che se uno si rivolge al codice verde capisce da solo che ha il tempo per telefonare per rivolgersi quindi non è un malanno è un malanno non è un malessere tale da pregiudicare le sue condizioni di vita e già qua c'è una grossa divisione differenza perché se uno chiama il 112 se proprio pensa di avere qualcosa quelli che possono essere magari in dubbio sono selezionati dal triage telefonico che è un'arma fantastica perché comunque solo la parola un dolore al torace noi stessi non solo diciamo non venga da noi ma li aiutiamo in base alla zona e tutta rivolgersi a chi e come in quale ospedale quindi c'è in stradate li aiutiamo anche perché chi non è di Milano non sa bene come muoversi quindi ci facciamo dire dove sono dove non sono certo è tutto un'attività che viene fatta per la carineria che ha la persona che risponde al triage e perché ci piace vivere con questa filosofia di vita quindi voi siete a Milano però possono arrivare persone che non sono di Milano ma anche fuori assolutamente anzi maggior parte sono stranieri turisti di passaggio che non stanno bene sono in un albergo e non stanno a chi rivolgersi adesso abbiamo tutte queste applicazioni che si possono scaricare con due piccole mosse ci trovano e abbiamo sempre una risposta ecco l'importante è un po' mantenere le promesse quindi se diciamo che possiamo eseguire una prestazione perché pensiamo di farla molto bene in questi anni chiaramente questa attività è stata perfezionata perché non era nata già tutta così come ve la racconto oggi però pensiamo di essere arrivati a un buon livello abbiamo avuto un buon successo le persone una volta finita la prestazione ci rubano dieci minuti ma noi ne siamo contenti per elogiarci e non per insultarvi non è capitato ma forse perché intanto c'è più tempo per avere un rapporto personale col paziente lui non si sente un numero un caso clinico ma capisce che stiamo parlando come in una visita privata qualunque e poi perché vede che siamo ben organizzati e perché manteniamo le promesse quindi è capitato a volte con dei vostri colleghi che dicono ma io vado sempre in ospedale però questa volta non ho tempo ho troppi impegni posso venire da voi e si sono trovati bene da quanti anni esiste è aperto da dieci anni su Milano abbiamo diciamo perfezionato molto il sistema e ci siamo occupati molto meno di farci conoscere questo è un po' un grande dispiacere che io ho ecco due cose volevo chiedere innanzitutto quali sono i casi che vi capitano più frequentemente e una domanda che avevo io esiste anche il pronto soccorso pediatrico ma il pronto soccorso pediatrico l'abbiamo lasciato per un motivo molto semplice che tutti i bambini in età pediatrica hanno d'obbligo il loro pediatra e quindi non dobbiamo sostituirci a nessuno è chiaro che noi assistiamo il bambino se questo arriva per un taglietto caduto il nostro primo paziente è stato un bambino di sei mesi caduto dal seggiolone e grazie all'abilità di un fratello chirurgo plastico è stato ricucito alla perfezione quindi sfruttiamo tutte le nostre possibilità per dare sempre il meglio è chiaro che le patologie più frequenti sono quelle nelle quali incorriamo tutti il forte mal di pancia che il giorno prima non avevamo che ci preoccupa il non star bene e dover affrontare un'attività lavorativa un viaggio il giorno dopo così abbiamo avuto banalmente dei grossi ascessi dimessi dagli ospedali perché chiaramente più che dargli l'antibiotico fargli qualcosa dove sono stati invece da noi drenati seguiti abbiamo messo in condizione di sfebbrarli in due giorni fargli prendere un aereo per un congresso importante all'estero abbiamo tanti casi che sembrano minori come abbiamo avuto importanti interventi chirurgici perché una persona si è presentata da noi con un forte dolore con un ittero una colorazione giallasta dell'acute era una colicistite acuta nel tempo di 4 ore era ricoverato e operato quindi lì è chiaro che il sottoscritto riesce a esprimersi al meglio perché diciamo quel lavoro che pratico in ospedale lo posso praticare anche in strutture private quindi la stessa qualità viene data e riservata alle persone anche che vengono viste da codice verde poi ci sono tutti i traumi domestici ci sono le piccole ustioni ci sono le infezioni ci sono quelle piccole patologie cutaniche negli ospedali vengono viste in pronto soccorso demandate all'ambulatorio che poi demanda all'ambulatorio della piccola chirurgia e passano 6 mesi perciò sono cose che sembrano banali però la verruca sulla mano il bambino non la vuol tenere 6 mesi fai in tempo infettare tutte le altre dita le cisti le crisi anche proctologiche perciò qualcosa che allerta il malato è come vedere del sangue anale perdite di sangue così che all'improvviso ma da come mai è successo cosa può dipendere si recano noi hanno le visite specialistiche quindi visite proctologiche abbiamo l'attrezzatura per vederli eventualmente in una seconda battuta per fare esami indoscopici quindi diciamo che è una struttura ben organizzata e quanti persone può ospitare dunque a seconda dato che siamo smistati sul territorio di Milano noi possiamo ospitare una media di due persone tre all'ora per il momento siamo un'equipe di 15 professionisti che si alternano quindi chiaramente il servizio viene mantenuto perché c'è questa alternanza di impegni tra professionisti quindi oculisti sono due dermatologi sono due chirurghi sono 4-5 gli ortopedici sono due e così via non dimenticate che parliamo di codici minori quindi di tutte quelle persone che potrebbero anche essere assistite dal loro medico curante per certe cose poi non gli chiediamo di fare la struttura magari però per una bronchite per un'ottite così come prima battuta potrebbero essere visitati dal loro medico come dicevo prima tante volte non lo trovano in quegli orari noi siamo un pochettino più flessibili che copriamo 12 ore al giorno e forse serviamo a qualcosa mi piacerebbe molto che venisse replicato e sarebbe molto interessante appunto anche in altre città perché come abbiamo detto tante volte si va dal medico curante a volte è vero non è l'orario di visita però tante volte magari è anche l'orario di visita però manda comunque io penso che tutti voi abbiate avuto purtroppo qualche esperienza anche personale con voi con i vostri familiari quindi che tutti voi conosciate bene quello che succede quotidianamente quindi ecco perché è nato Codice Verde ecco perché ho questa passione per l'urgenza e per il pronto soccorso la mia è una seconda specialità dopo essere specialista in chirurgia generale quando ero molto giovane ho voluto iscrivermi anche alla chirurgia d'urgente perché ha sempre avuto un fascino poi la scuola di Milano è stata una scuola eccezionale con i più grandi nomi della chirurgia e mi sembrava bello coronare questo iter chirurgico nella mia vita con questa specializzazione e con questa iniziativa molto molto utile andiamo in pubblicità ci troviamo tra poco benissimo torniamo in studio stiamo parlando giustamente di pronto soccorso e di questa bella iniziativa per ora sulla città di Milano due cose volevo chiedere la prima è il rapporto mi diceva tempo fa che il rapporto poi continua anche dopo la visita col paziente sì questo è un qualche cosa di meraviglioso se vediamo che le persone o perché sono molto giovani non hanno i genitori a Milano non hanno una famiglia che li possa un pochettino sostenere se non telefonicamente o anche con le persone anziane che sappiamo vivere da sole devo dire che la persona nella veste della mia socia la dottoressa Masserini che è la cosa importante che sostiene tutta questa società ha la carineria di richiamare a casa le persone per sentire se tutto è andato bene se la prestazione è andata a buon fine se stanno bene se hanno ancora dolori se hanno febbre o meno e questo dà un piccolo conforto in più a noi non costa nulla perché quando viene fatta spontaneamente e non per marketing è una cosa molto bella ed è un po' la filosofia che ho ovunque anche in ospedalcia diciamo che è un coccolare il paziente diciamo che un paziente magari non se l'aspetta però se ami il tuo lavoro ti viene spontaneo lo fai facilmente e sono due minuti di telefonata che non costano nulla così come a volte rappresentiamo un punto di riferimento per i genitori che sono in altre città d'Italia o all'estero e hanno il loro figlio in cura da noi che devono fidarsi di noi perché non ci conoscono allora la telefonata aiuta molto perché comunque si entra subito magari in sintonia capiscono che non siamo lì pronti a saltare addosso ai loro figli con interventi inutili o con altre cose e diventa un rapporto meraviglioso che ci devono molto che magari hanno bisogno di due giorni per raggiungersi devono organizzare la loro vita la città di residenza per poi raggiungere e vengono quasi sempre a complimentarsi con noi a ringraziarci e da lì nasce certo e ha detto una parola giusta importante fidarsi perché comunque anche dalla parte del paziente quando ti devi mettere in mano ad uno specialista la prima cosa devi fidarti sì soprattutto perché dallo specialista anche privatamente va un po' per il passaparola e quindi sai già che ti troverai al cospetto una persona della quale puoi fidarti nel momento dell'urgenza le persone rivolgendosi a un servizio e quindi non a un singolo specialista non sanno chi sarà lo specialista e quindi lei secondo me ha sottolineato una cosa importante che riuscire a dare rispondendo a una telefonata e poi con una visita fiducia a queste persone crea quella catena di eventi meravigliosi che sono il rapporto medico-paziente e parenti di paziente quello che le dicevo prima che diventa un po' un punto di riferimento e sta tutto lì la base è proprio quella e sta tutto lì anche a continuare a vivere di codice verde perché comunque è una piccolissima realtà però l'entusiasmo non manca non è mancato in questi anni siamo ancora illusi di poterci migliorare ma sicuramente ecco volevo chiedere anche un'altra cosa prima abbiamo detto per ora solo Milano però voglio dire un messaggio che può lanciare sui colleghi di altre città di organizzarsi e farlo lei mi legge nel pensiero perché il mio sogno era proprio quello di come posso dire di contattare più medici possibili che magari hanno la stessa passione la stessa voglia anche di organizzarsi o sono già organizzati in studi con colleghi ma perché non facciamo anche noi il nostro studio la nostra attività però facciamo un punto codice verde io ho sempre sognato in grande ho sempre sognato di vedere le persone felici perché non so vengono in Italia come turisti e per un piccolo malessere per un piccolo contrattempo cominciano veramente quasi a odiarci perché vengono trattati male negli ospedali spesso non trovano personale che parli la loro lingua da noi tutti parlano almeno l'inglese o il francese o il tedesco quindi sono persone che sono anche selezionate per questo e quindi deve sapere che c'è un piccolo codice verde a Capri piuttosto che in Adriatico dove questi pazienti turisti magari scandinavi olandesi che sono abituati da loro ad avere questi piccoli centri per un primo soccorso lo possano trovare anche da noi a risolvergli il problema in brevissimo tempo per me sarebbe un motivo d'orgoglio quindi la mia speranza è che alcuni colleghi possano sentirci e dire ma sì vediamo se possiamo fare qualcosa anche noi non è difficile è un po' impegnativo però grazie alla nostra esperienza potrebbero partire già avvantaggiati ecco come avete iniziato voi a questo punto diamo già degli input noi abbiamo iniziato perché follemente io ci ho pensato per anni e continuavo a dire ma se non l'ha mai fatto nessuno evidentemente non si può fare evidentemente un'idea da accantonare poi ho maturato chiaramente ho avuto contatti con l'ASA per sapere cosa dovevo fare cosa dovevo fare una cosa e l'altra alla fine è tutto molto più semplice si tratta di avere comunque attorno dei colleghi di cui ci si possa fidare persone che oltre al loro lavoro anche privato che posso capire che renda molto però possono dare un piccolo spazio alle prestazioni di codice verde che sono sì private però sono cifre molto calmirate e quindi la maggior parte di persone nessuno si è mai lamentato per aver pagato 150 euro o 100 euro a codice verde questo tanto per entrare nel vivo perché comunque la prestazione è fatta da un professionista che magari nel suo studio privatamente chiederebbe anche il doppio e quindi non capiscono che sono in buone mani in persone che sanno come gestire questi pazienti quindi ci vuole molto amore per la professione che si fa per poi poter dar vita anche io credo che amore per la professione ce l'abbiano tutti i medici si tratta di fare un piccolo sforzo oltre alle proprie ore lavorative e dire ma facciamo anche qualche cosina per codice verde creiamo qualche cosa che possa dare soddisfazione a una clientela a una possibile clientela ma soprattutto anche a noi perché io credo che essere messi alla prova in un momento di urgenza sia veramente un bel esamino che è un po' stressante però di grande soddisfazione sì anche questo è stressante è vero perché fate già tante ore magari nel privato assume qualche cosa di ancora più stressante però nessuno deve stare a fare quello che abbiamo visto nel filmato introduttivo da noi vengono filtrati i pazienti e diamo un aiuto a chi è una banale dissenteria del viaggiatore con un'intossicazione alimentare come una forte tonsillite che non gli permette di partecipare a una riunione lavorativa o semplicemente stare dietro al banco di un negozio perché è febbricitante quindi cosa fa chiude un negozio sta sei ore in pronto soccorso per farsi dare una visita a un antibiotico preferisce scappare un quarto d'ora da noi viene visto nello stesso modo se non meglio e a lui vengono prescritte le terapie che magari lo fanno stare un pochettino meglio e gli permettono di non chiudere l'attività lavorativa quindi siamo un po' una situazione utile per tamponare delle cose piccole o medie perché adesso non voglio sottovalutare il nostro lavoro ma la frattura di clavicola l'abbiamo avuto l'acolesistita acuta l'abbiamo avuto l'ulcera perforata l'abbiamo avuto quindi quelle patologie che in ospedale magari vanno trattate immediatamente se c'è la sala operatoria libera o se no con un sundino possono aspettare anche loro ore e ore e ore riusciamo ecco a fare delle cose che ci gratificano ecco penso che lo scoglio più grosso magari che possa spaventare qualche suo collega di qualche altra città forse la burocrazia italiana però da quanto abbiamo capito abbiamo capito che si può snellire si può snellire molto basta avere un poliambulatorio con tutte le caratteristiche del poliambulatorio quindi non lo studio medico bisogna soprattutto dire che si può fare questo e quest'altro e non promettere le cose che non puoi mantenere secondo me questo è pochissimo si possono fare dei codici verdi anche super specialistici vale a dire uno può dire ma io sono un dermatologo in uno studio con tutti i dermatologi facciamo un codice verde per le patologie dermatologiche perché no ci sono code da noi impressionanti voglio dire una cosa noi abbiamo nei grandi ospedali a volte dei consulenti dermatologi e non tutti i giorni abbiamo dei consulenti oculistici e non tutti i giorni quindi non è che il pubblico possa offrire di più quindi questo crea lunghe attese per le prestazioni ambulatoriali anche lì chiaro se uno può permettersi una visita di codice verde trovi il dermatologo lo torino l'oculista in un'ora certo e chi non se lo può permettere secondo me chi non se lo può permettere deve sperare che tutti quelli che se lo possono permettere vadano a codice verde in modo tale da eliminare da lasciare più spazio per il pubblico e non trovare nel pubblico tutto quell'intesamento che c'è è vero esatto siamo giunti in chiusura siamo giunti in chiusura direi che anche questa puntata come tutte le altre nostre puntate sono state interessanti abbiamo dato dei consigli a casa su come utilizzare nel miglior modo i pronto soccorsi italiani e perché no a questo punto mi rivolgo agli amici medici e ai suoi colleghi organizzatevi perché non fate un codice verde anche nella vostra città grazie grazie tematica che a voi interessa benissimo grazie per tutte queste delucidazioni Roberto Bonin ma un grazie al nostro ospite al dottor Carlo Zampori io vi ringrazio per avermi invitato e per avermi dato la possibilità di far conoscere magari a voi a qualcun altro l'esistenza di questo piccolo codice verde e un in bocca al lupo perché possa crescere anche in altre città grazie grazie a tutti voi che avete scelto anche questa sera sei in salute un grazie in regia un grazie a Sergio Bianchi a RBM Group al negozio di Via Roma Vestire per gli abiti che mi concede ad ogni puntata e noi vi aspettiamo martedì prossimo alle 21 ciao a RBM Street